Le valli che circondano Torino e Cuneo nascondono luoghi incantati, imbevuti di storia e tradizione, incorniciati dentro scenari emozionanti, allontanandosi di poco dalla strada principale, seguendo i sentieri di valli incastonate tra cime maestose, oppure quelli che attraversano le colline dell'Alta Langa, o ancora seguendo itinerari che ripercorrono quelli di imprese storiche e leggendarie. Circondati di bellezza, continuamente attratti da tradizionali gusti tipici, contemplando paesaggi patrimonio dell'umanità e ammirando l'immensa vista dell'arco alpino da cui svetta il Monviso, il re di pietra. Tocca con mano la storia, passeggiando lungo i corridoi di ville e castelli, o ammirando intere vallate dall'alto di forti militari di epoche passate. E poi, dopo la salita, arriva la discesa. Leggera e veloce come un soffio di vento, eccitante e adrenalinica come un fulmine. Immagina tutto questo. Immagina di poterlo scoprire in un piccolo angolo di mondo tra Italia e Francia. Questo è solo un pezzo del nostro Piemonte.